Vi avevo già parlato di New Orleans in un video precedente, che era quello sul Sazerac, che vi faccio apparire qua. Questa volta invece parliamo di un altro famosissimo drink che è nato in questa città. Perché oggi ragazzi siamo portati a pensare che quando si parla di cocktail si peca in Italia, chiaramente pensiamo a Milano-Roma, o Londra, o New York, ma in realtà una città importantissima a livello mondiale per la miscelazione è proprio New Orleans. Il drink simbolo di questa città è sicuramente il Sazerac. Poi se ci andate oggi vedete camminare un sacco di gente con un hand grenade in mano, drink dal colore improbabile che non si capisce bene quale sia la ricetta, che vi sconsiglio di prendere perché tutt'altro è che sicuramente un buon drink che porta con sé la storia di questa città. Prima di parlare dell'Ari che mi presento per chi non mi conoscesse, sono Giovanni Ceccarelli, ho un blog sulla miscelazione www.giovanniceccarelli.com, che vi faccio apparire qua sopra, sono informatore in Dream Factory, che è una scuola per barman con sede a Bologna, e perché cocktail engineering? Perché in una vita precedente mi sono laureato in ingegneria e una mentalità un po' tecnica, me la sono portata anche nel mondo della miscelazione. Finita la sigla, iniziamo a parlare dell'Hurricaine. L'Hurricaine è un drink che nasce al Pat O'Brien di New Orleans, e se è andata a New Orleans dovete assolutamente andare al Pat O'Brien, che è questo locale storico nel quale appunto viene e veniva servito questo drink. Il drink veniva e viene servito in questo bicchiere, questo è un bicchiere originale del Pat O'Brien, ed fa parte della collezione privata di Gianni Zottola. Gianni è un carissimo amico, nonché docente con me in Dream Factory, ha anche lui un bellissimo blog www.giannizottola.com, vi lascio il link nella descrizione al suo articolo sull'Hurricaine, e questo è appunto un bicchiere che fa parte della sua collezione privata di bicchieri e attrezzature tiche. Guardiamo la ricetta dell'Hurricaine. Salta subito all'occhio che questo non è un drink normale, perché c'è del rum giamaicano ma la quantità è veramente impressionante. Qui parliamo di 120 millilitri, 4 once. Questo fondamentalmente ci fa capire che questo è un drink doppio, ok? Almeno nella modalità in cui veniva preparato al Pat O'Brien. Io personalmente oggi, quando lo servivo ai locali, lo mettiamo in carta nei locali che seguiamo, nelle nostre consulenze, consigliamo di dimezzare le quantità, quindi di renderlo un drink assolutamente normale, perché altrimenti dovreste farlo pagare il doppio e comunque la quantità è veramente eccessiva. In questo video, perché voglio utilizzare questo suo bicchiere originale, andremo a realizzarlo in queste quantità, però il consiglio appunto è quello di oggigiorno dimezzare le quantità, perché ci si stanca anche a bere un drink così tanto lungo e poi stando lì molto tempo nel bicchiere, perché la bevuta sarà abbastanza impegnativa, tenderà magari un pochino a diluirsi. 60 millilitri, quindi due once di succo di limone fresco e 60 millilitri di sciroppo di frutto della passione, da cui arriveremo tra poco a parlare, ok? Quindi questa è la sua ricetta del drink, viene shakerato con ghiaccio tritato appunto e servito nel classico bicchiere da Hurricane, ok? Quando andate al Pat O'Brien, vedete che questo drink avrà un colore profondo, o se cercate anche le foto sul web, avrà un colore profondamente diverso da quello che avrà il drink che faccio io. Per quale motivo? Perché viene preparato con dei premix industriali che hanno un colore rosso, ok? In particolare lo sciroppo di passion che viene utilizzato, o comunque questi premix che si utilizzano per l'arriking, poi lo troverete spiegato nel dettaglio, nell'articolo di Gianni che vi lascio in descrizione, ha questo colore rosso, ok? Sappiate però che se utilizzate passion fresco, ingredienti di qualità, non arriverete mai a quel colore, quindi non vi preoccupate, ok? Molto più importante utilizzare dei prodotti genuini, non che quegli altri chiaramente facciano male, ma che sappiano effettivamente di frutto della passione. Se volete imparare a realizzare lo sciroppo al frutto della passione, ho fatto un video, ve lo faccio apparire qua sopra e lo potete andare a vedere, se non volete vedere il video, c'è anche un articolo sul mio blog collegato, e facendo così potete fare uno sciroppo al frutto della passione, a partire dal frutto della passione fresco. Se però magari lavorate in un locale con un'alta percentuale di clientela e dovete fare veramente tanto, tanto, tanto sciroppo al passion e non siete attrezzati per farlo, perché magari siete un siringhito sulla spiaggia che non ha una cucina che può supportare una preparazione di home made in quantità elevata, esistono delle alternative. Per esempio, noi stiamo lavorando con le purè che produce questa azienda che si chiama Polposita, che è un'azienda italiana e il brand di proprietà di mixer, questo è il succo di passion fruit al 100%, questo è 100% frutta pastorizzato, quindi non c'è zucchero aggiunto e non c'è altro, e si presta alla perfezione per essere utilizzato in tutti quei drink in cui vogliamo utilizzare del frutto della passione, dove non possiamo magari utilizzare il fresco, ma vogliamo offrire il top della qualità sui succhi al 100%. Questo non è 90% frutta e 10% zucchero, ma è 100% frutta pastorizzata, quindi abbiamo una percentuale di zucchero dovuta al frutto originale di circa il 13%. Questo vuol dire che possiamo trasformare questo prodotto in uno sciroppo, ed è qui la velocità, perché prendiamo questo succo, aggiungiamo zucchero, trasformiamo in uno sciroppo, per trasformarlo in uno sciroppo ogni 100 grammi del nostro succo dobbiamo aggiungere 130 grammi di zucchero. Perché 130 e non 165 come facciamo nel caso dello sciroppo di zucchero? Beh, perché in questo caso abbiamo già lo zucchero del frutto all'interno, quindi 130 grammi di zucchero ogni 100 grammi del nostro prodotto ci vanno a realizzare uno sciroppo e vi faccio vedere anche la quantità che ne ottenete. Quindi questo appunto è in questa proporzione e vediamo che, adesso trattengo la ancoretta dell'agitatore magnetico, adesso un po' ne è rimasto nel bicchiere poi magari con un lecapente e lo volete giù bene, abbiamo ottenuto 180 ml. Ok, quindi a partire da un sacchetto da mezzo chilo riusciremo a ottenere 180 per 5 ml di sciroppo di passion che comunque ha un'acidità e un'aroma estremamente gradevoli che ricordano che sanno proprio di passion. Ok? Rispetto a un passion fresco è leggermente più acidulo. Ok? Andiamo a preparare adesso il nostro hurricane. Quindi mettiamo a raffreddare il bicchiere, prendiamo il nostro shaker e andiamo a versarci 4 once di rum dark, giamaicano. Uno. Due. Tre. Quattro. Ok, la quantità è veramente, veramente elevata. Due once, poi serviranno di limone e di passion. Io vado prima con lo sciroppo perché magari rimane un pochino appiccicato allo squeezer e con il limone poi di fatto sciacquo lo squeezer. Quindi ora limone, anche qui due once. Classiche campane che suonano nella chiesa vicino al nostro laboratorio, non ci possiamo fare niente, assaggiamo. Il drink è eccezionale. È un perfetto equilibrio tra dolce e acido. Ghiaccio tritato. Andiamo a dare una shakerata. Vi ricordo che col ghiaccio tritato la diluizione è molto più rapida. E in questo caso non è assolutamente un problema perché abbiamo un drink che altrimenti vi stenderebbe alla velocità della luce. Tiriamo via il ghiaccio con cui abbiamo raffreddato il bicchiere. Andiamo a versare il drink. E adesso aggiungiamo il ghiaccio che manca. Io sono solito aggiungere il ghiaccio dopo così riesco a creare un po' quella montagnola che si crea sopra. Altrimenti se shakeriamo direttamente con la giusta quantità di ghiaccio non ci riusciamo. Decoriamo con un ciuffo anche qui di menta poi potreste anche decorarlo con altro con molte decorazioni tradizionali vedete la fetta d'arancia e la ciliegina nucleare quel rosa io preferisco sempre la menta che mi dà anche un bel profumo e secondo me è perfetto chiaramente una cannuccia possibilmente eviterei le cannucce in plastica metterei cannucce in acciaio oppure in bambù oppure in carta ci sono oggi molte alternative alla plastica e questo è il nostro hurricane e ancora una volta vi sconsiglio di prepararlo in dose doppia perché dovreste venderlo chiaramente a un prezzo molto più alto che magari non sarebbe affrontabile perché magari le persone si vogliono bere un paio di drink possibilmente diversi quindi questa è la sua versione originale nel suo bicchiere originale e voi potete andarlo appunto a dimezzare e servire anche in un altro bicchiere ok e questo è il nostro hurricane benvenuti a New Orleans e buona miscelazione grazie a tutti